Ciao a tutti e bentrovati in quest'ultimo episodio di Epilogo dove faremo un generale ripasso su Lightroom e parleremo di alcune cosette che non abbiamo parlato negli episodi precedenti. Dunque, allora, partiamo dall'importazione delle foto. Quando inseriamo una scheda SD solitamente il programma dovrebbe rilevarla in automatico per l'importazione oppure abbiamo un nuovo harddisk o una nuova cartella all'interno del nostro computer che vogliamo importare nel nostro catalogo. Non facciamo altro che cliccare qui e andare a scegliere nei nostri harddisk e nelle nostre cartelle dove si trovano le foto da importare. Dopodiché si clicca Importa. In genere, Lightroom appena installato nel computer dovrebbe rilevare in automatico tutti i vari cataloghi, cartelle e foto che sono nelle vostre memorie, nei vostri harddisk. Come potete vedere siamo sempre nella sezione Libreria. In questo caso qua io non modifico le foto ma le sfoglio e le guardo. Qua ci sono tutti i miei harddisk e poi in base a dove vado lui televisualizza. Ora fermiamoci qua nella mia nuova cartella, il mio nuovo harddisk e vi spiego queste cosette. Dunque, nel catalogo, che è questo, quindi non in sviluppo ma in libreria, nel nostro catalogo possiamo decidere di assegnare un voto a ogni fotografia. Possiamo decidere di assegnare un cartellino colorato a ogni fotografia. Come potete vedere questa ha un cartellino rosso, posso dargli un cartellino giallo, posso non darglielo per niente. E queste stelline qua invece sono la votazione. Quindi io mi posso catalogare le foto per cartella, votazione o colore. Ad esempio, faccio un set, che ne so, a Barbara e Asia, questa bambina. Le serie di queste fotografie qua ci voglio dare cartellino rosso, no? E facciamo così. Quelle in primo piano ci voglio dare cartellino verde. Me le posso catalogare in questa maniera. Ora io ve lo faccio vedere proprio molto veloce per farvi capire la funzione. Questa foto mi piace di più, allora ci do 5 stelle. Questa è venuta male, ha un micro mosso, 3 stelle, eccetera eccetera. Questa è la catalogazione. Sì, questo è il modo con cui si compone. Ma come funziona? Poi, a che mi serve? Perfettamente. Allora, possiamo metterle in ordine poi. Andando qui. Qui addirittura te le divide per macchina fotografica utilizzata. e obiettivo utilizzato. Questo proprio lo fa in automatico Lightroom. Che si tratta di un JPEG, che si tratta di un RAW. Qua potete vedere tutte le foto fatte con il 1750. Tutte le foto fatte con il 35. Tutte le foto fatte da D5003. O quelle fatte da D3002. Una volta selezionate queste cose qua, si possono selezionare le etichette da noi prima messe. Fammi vedere solo quelle rosse. Fammi vedere solo quelle verdi. E così via. Benissimo. Questo ve l'ho spiegato. Il catalogo. Anche un'altra maniera di visualizzazione. Oltre a vedere le miniature qua in basso, qua nella parte principale centrale, possiamo decidere di vedere la nostra foto a tutto schermo, proprio come nello sviluppo. cliccando due volte si torna indietro. Quindi, clicchiamo due volte sulla foto per ingrandirla, clicchiamo due volte per tornare indietro. Sempre in libreria. Come potete vedere, anche quando la foto è ingrandita, abbiamo la possibilità di dare i nostri cartellini. Come vedete la visualizzazione è molto più chiara, in questa maniera qua. Abbiamo le stelline, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità di variare lo zoom per vederla meglio, cose che comunque siamo abituati a fare in sviluppo dopo, e così via. Dunque, detto questo, passiamo allo sviluppo, e andiamo avanti con il nostro ripasso. Allora, torniamo un attimo indietro, carichiamo delle foto corrette. Allora, ecco qua, sviluppo. Benissimo. Allora, in sviluppo parliamo un attimo dei metadati, ne abbiamo già parlato, comunque facciamo una rinfrescatina. Qua possiamo vedere la foto, come è stata scattata, ISO 100, 20 mm, F7, e il tempo di scatto. Questo sopra è l'istogramma. Tenendo premuto questo tastino, mi evidenzia le parti bruciate dal troppo buio, dal troppo nero, dalla troppa ombra. Tenendo invece premuto, cioè, premendo solo col sinistro, è la selezione automatica. Questa parte qua, come potete vedere, è diventato rosso qua dentro. Cosa significa? Significa che queste parti sono state troppo esposte, sovraesposte dalla luce e quasi bruciate. Quindi, come al solito, noi abbassando le luci andiamo a recuperare. Queste due, diciamo, caselline possono essere attivate o disattivate. L'importante è che non le tenete sempre attivate, perché in uno sviluppo fotografico possono rompere le scatole. Allora, detto questo, parliamo del lentino. Il lentino è questo che vediamo in alto a sinistra. A cosa serve? Dunque, ora siamo nella visualizzazione a tutto schermo. Come possiamo vedere, c'è Adatta o Riempi. Ok? Per vedere la foto a pieno. Quando noi, con il nostro cursore, premiamo sulla foto, una volta con il tasto a sinistro, si va ad effettuare uno zoom. Nel lentino qua, vediamo dove ci spostiamo nella nostra foto. Ma come facciamo a decidere quanto zoomare quando premiamo il lentino? Lo decidiamo da questo pannello. Queste qua sono le dimensioni. 2 a 1, 3 a 1, più grande ancora. Questo è un super zoom. Lo possiamo vedere anche da qua. Quindi, così siamo normale. Quando clicchiamo andiamo in zoom e possiamo decidere di quanto avere il nostro zoom. Diciamo che generalmente quando si lavora le foto, quando si ha un 1 a 2, va benissimo. Quindi, risoluzione normale, 1 a 2. O anche un pelino di più, magari. Così vedete già troppo. Comunque si usa giusto quando andiamo ad agire sui dettagli, sulla riduzione del rumore, che vogliamo proprio vedere la nostra foto realmente a dimensione grande, cosa è successo. Ok, parlato del lentino, parliamo della duplicazione di un'immagine e di cosa succede quando ne eliminiamo una dal nostro catalogo. Sia in libreria, sia in sviluppo, abbiamo la possibilità di eliminare o duplicare le foto. Tenendo premuta una foto, la selezioniamo così normalmente, premiamo il tasto cancer della tastiera e abbiamo la possibilità di rimuoverla. se facciamo elimina da disco, eliminiamo proprio il nostro file, il nostro nf, il nostro jpeg, lo cancelliamo proprio dall'hard disk. Se facciamo soltanto rimuovi, lo togliamo solamente dal catalogo, ma rimane nella nostra memoria. Invece, premendo il tasto destro e andando poi a fare creare una copia virtuale, abbiamo duplicato questa immagine, perché magari noi, una la vogliamo modificare e una la vogliamo lasciare com'era anche per vedere, non so, la differenza che c'era tra una e l'altra. Ora io ve l'ho fatto vedere proprio grosso modo. Una eliminiamo. Un'altra cosa molto importante che possiamo vedere e parlare di questo catalogo, tasto destro, modifica in, come abbiamo già parlato in riduzione del rumore, abbiamo la possibilità di installare dei plugin extra, magari anche di altre case, per lavorare le nostre foto, come ad esempio il ColorFX di Nik Software, che ha dei filtri molto carini di colori, luci, bianco e nero, eccetera, eccetera. Quindi, facendo così, noi non facciamo altro che creare una copia virtuale in automatico della nostra foto e la va ad aprire e la vedete, eccola qua, e la va ad aprire e a lavorare nel nostro programmino esterno. Una volta che io con il programmino esterno, in questo caso ColorFX, ho scelto il mio preset, ho fatto le mie regolazioni, eccetera, eccetera, clicco salva, il programma elabora l'immagine, la salva e me la va a riportare nel mio catalogo di Lightroom. Come possiamo vedere, ecco qua, abbiamo la copia originale e la copia modificata. La copia modificata la riconosciamo sempre perché viene scritto accanto al nome della nostra foto, vedete, viene scritto modifica.tif, eccola qua, e crea proprio un duplicato. Ok, detto questo, passiamo a parlare della filigrana. dunque, quando noi abbiamo da applicare una nostra firma, non facciamo altro che durante la fase di esportazione andare a cliccare filigrana. La filigrana, ovviamente, dovrebbe essere un file PNG a sfondo trasparente, già preparato in precedenza, magari, che ne so, su Photoshop, e quindi caricato su Lightroom. si va a scegliere la nostra filigrana e si fa esporta. Ma come si decide la filigrana in Lightroom? Allora, allora, si va in modifica, modifica filigrana, si aprirà questa pagina dove in automatico lui ti crea una semplice filigrana. Se la filigrana non ci piace, scegli, andiamo a cercare un file PNG a sfondo trasparente nel nostro computer che vi siete preparati in precedenza, ad esempio, io ho queste firme qua, eccola qua, me la importo in automatico, decido dove far apparire la filigrana nell'immagine, se a destra, a sinistra, al centro, decido la grandezza della nostra firma e, fatto questo, io salvo queste impostazioni, ci do un nome, quindi, firma basso destra e, crea, e la vado a salvare. Quando poi farò esporta, ah, ho sbagliato, clicca, quando poi farò esporta, nella nostra filigrana, andiamo qua, flagghiamo, andiamo a scegliere basso destra e facciamo esporta. In questo caso, Lightroom esporterà in automatico tutte le nostre foto con la nostra firma. Per esportare, come spesso mi chiedete, più di una foto insieme, non fate altro che andare all'inizio del nostro catalogo, selezionare una foto, tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, per intenderci al tasto delle maiuscole, andiamo a premere l'ultima foto del catalogo. Vedete che le ho selezionate tutte? Quest'operazione io vi consiglio sempre di farla appena tornate a casa, che avete le vostre foto RAW, i vostri file RAW, la prima cosa è la conversione in JPEG, perché sarà sempre meglio la conversione che fa Lightroom, che fa il computer, è sempre una compressione, e sarà sempre meglio che quella che fa la macchina fotografica, che poverina, fa quello che può, ha il processore piccolino, non ha certo la potenza di calcolo del computer di casa, quindi scattate sempre in RAW e fate subito la vostra conversione di tutte le vostre fotografie con Lightroom. Le selezionate tutte, File, Esporta, e ve le esportate tutte subito. Ve le esportate in JPEG al 100% della qualità, spazio colore, sRGB. Una volta che le avete esportate, poi con calma, andate a ritoccare e sviluppare, come vi ho fatto vedere, ma solo le foto più belle, cioè non andate a fare la solita lavorazione a tutte le foto, lo fate solo a quelle che preferite. Ok, detto questo, di Lightroom abbiamo detto quasi tutto, soprattutto le cose principali, spero che anche questo tutorial vi sia servito a chiarirvi le idee, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!